Il giardino incantato, le novità sul corso con i lampadari stilizzati, gli ultimi animali piazzati nel caratteristico zoo in villa comunale, la maggior parte a grandezza naturale, un elefante di 8 metri, i pinguini che tornano sul lungomare ed ancora l'albero minimal con folli e rami stilizzati che si sposta da piazza Portanova a piazza Flavio Gioia. Sono alcune delle novità della quattordicesima edizione di Lucida Artista a Salerno. La Kermess, che sarà inaugurata venerdì prossimo alle 17.30 nella villa comunale di Salerno, ha già fatto registrare prenotazioni da parte dei primissimi torpedoni che già nel prossimo weekend saranno in città per visitare le luminarie. Ne ha dato qualche anticipazione stamani con malcelato orgoglio l'assessore al commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo. Quest'anno devo dire che le luci sono molto belle, ieri ho fatto un nuovo giro per la città, chiaramente abbiamo testo avviso, ritengo che il corso con i lampadari stilizzati siano veramente un bel vedere, ma ho apprezzato molto fino a ieri sera anche l'albero di Natale minimal con tutti i rami e con tutte le foglie fluorescenti che sta nella bellissima piazza Flavio Gioia. Ci sono degli animali grandissimi, stesso stamattina stanno montando gli ultimi animali per lo zoo della villa comunale, un elefante di 8 metri sarà montato oggi. Devo dire che quest'anno l'abbinamento luci, mostra di Van Gogh e talt'altro si riconfermerà a Salerno comune dei Natali più attraenti d'Italia.